Grazie Tomaso e Girono Tomaso e Girono Tomaso e Girono Bev'acqua Tomaso e Girono Algino E' in arrivo Rocca Te Siena Giuseppe 17 Riga 10 Parentera Bonito Portone Sparbe 5 Rotundo Giuseppe 16 Guardate Giambà Pietro 11 Marino Marino Ok come signore lo aveva detto prima Poi ci si è il Parentera Signor Caraccio Signor Caraccio Signor Mister Signor Ceri Il Signor Cristiano Siamo anche il Medico Sì Siete qua Siamo Sì No Grazie.